Ricevendo il Centro Italiano Femminile, Papa Francesco ha auspicato che si aprano ulteriori spazi di presenza e attività delle donne, tanto nell'ambito ecclesiale quanto in quello civile delle professioni. Se nel mondo del lavoro e nella sfera pubblica è importante l'apporto più incisivo del genio femminile, ha detto il Papa, tale apporto rimane imprescindibile nell'ambito della famiglia, che per noi cristiani non è semplicemente un luogo privato, ma quella chiesa domestica, la cui salute e prosperità è condizione per la salute e prosperità della chiesa e della società stessa. La presenza della donna nell'ambito domestico si rivela quanto mai necessaria, ha detto il Papa, per la trasmissione alle generazioni future di solidi principi morali e per la stessa trasmissione della fede.